Sono anche qui particolarmente soddisfatto del fatto che, come potete vedere, finalmente abbiamo poliziotti giovani, lì sono stati impegnati quest'estate tutti quanti nel rinforzare il piano di prevenzione a volante mare sostanzialmente e devo dire che i risultati sono stati veramente soddisfacenti perché in periodo estivo sono state, ma così ve le dico con qualche numero giusto, complessivamente sono state denunciate 53 persone arrestate, parliamo di controllo del territorio, 4 persone, 8.860 persone controllate, 4.781 veicoli controllati, 8 veicoli sequestrati, 12 armi sequestrate o ritirate, quindi devo dire che sostanzialmente è stato un risultato positivo. Adesso terminata questo impegno straordinario sul controllo del territorio, sono stati assegnati in vari uffici, quindi dalla Vigos all'anticrime, qualcuno alla squadra mobile e sono tutti quanti già operativi nei riflettivi uffici di assegnazione dalla settimana scorsa. A breve assegnerò anche le colleghe qui presenti agli uffici, quindi vedremo un attimino, adesso mi riservo di parlare con loro anche, vediamo di far coincidere le loro aspirazioni personali anche con le esigenze di ufficio, ma sostanzialmente siamo operativi.